La discriminazione passa attraverso delle azioni quotidiane e noi come amministrazione e come Consiglio Comunale siamo felici di poterci opporre a questa discriminazione. La tassa sugli assorbenti femminili è la prova di una discriminazione quotidiana che le donne assumono quasi come se fosse scontata, ma lo sconto invece avviene in un'altra maniera. Come amministrazione abbiamo deciso di azzerare, grazie all'attività di Aspes come farmacie comunali, la tassa del 22% sugli assorbenti. Questo non è soltanto una scontistica economica, è un punto di parità di genere. Le battaglie di civiltà questa amministrazione le ha sempre combattute, si è sempre messe in prima linea per essere al fianco delle donne e non solo nelle battaglie di parità di genere. Non potevamo sottrarci a questa che è una campagna nazionale, sono tantissimi i comuni e le amministrazioni in Italia che si sono già attivate per azzerare la tassa del 22% sugli assorbenti e noi ci uniamo in questa campagna sperando che il governo al più presto porti a termine l'iter legislativo fermo ormai da mesi, se non anni, appunto su questo argomento. Ci auspichiamo che il governo ci ascolti, che la tassa sugli assorbenti e non solo venga zerata e che finalmente il ciclo venga non più considerato un lusso perché assicuro che non lo è. Su impulso dei consigli comunali di Pesaro e anche di Gabice Mare, Aspes con le farmacie comunali che gestisce sul territorio ha deciso di farsi carico dell'IVA sui prodotti che servono per il contenimento del ciclo femminile e quindi su tutta una serie di prodotti che vanno dagli assorbenti ai tamponi piuttosto che alle coppette conteniciclo appliceremo uno sconto iniziale di circa il 22-24% a seconda dei prodotti. È una battaglia che viene portata avanti in maniera molto seria insomma perché il ciclo come dice lo slogan della campagna che si sta portando avanti in tutta Italia non è un lusso e noi ce ne siamo fatto carico consapevoli insomma che questa cosa dovrebbe essere poi lo Stato stesso che dovrebbe abbatterla proprio perché al pari di medicinali, di prodotti per la salute gli stessi prodotti devono essere abbattuti scolliva a zero o al massimo il 4%. Noi come conferenza nazionale delle donne PD stiamo facendo una mobilitazione a livello nazionale perché c'è una raccorta di film che è arrivata già a un milione e stanno girando tutta l'Italia proprio per sollecitare questa azione che non è solo politica ma è un'azione di tipo culturale perché se noi non andiamo diciamo ad incidere sul concetto che i beni di prima necessità soprattutto per le donne qui è una questione di politica economica di genere a cui va portata un'attenzione molto molto particolare. Noi ci teniamo tantissimo e saranno anche a Pesaro tra agosto e settembre per raccogliere proprio le firme e per portarle poi ad ottobre nella legge di bilancio.